Eboli, fucilata dal padre, la vita appesa ad un filo. Resta appesa ad un filo la vita di Filomena Busillo, la 53enne ricoverata in gomo profondo, dopo che il padre l'ha sparata alla testa al culmine di un litigio per futili motivi. Filomena aveva tolto le chiavi dall'auto del padre ottandenne, poi aveva discusso con lui per convincere a prendere alcuni farmaci. La donna si è girata di spalle, si è diretta verso la scala interna della villa familiare, in località Macchione-Serravilli di Eppoli, quando Antonio ha imbracciato il fucilata e l'ha sparata a bruciapesa, a pochi metri di distanza ieri mattina assistito dall'avvocato Piero Antonio Busillo e comparsa davanti al giudice indagine preliminare Bocassini. Lunedì prossimo ci sarà l'interrogatorio di garantito, dove l'avvocato difensore potrebbe appellarsi all'incapacità di vendere di volere dell'indicato, per ottenere una misura cautelare più libera. Grazie a tutti!